Comandante, Movida Sicura ha sempre alta l'attenzione dei carabinieri non solo nella repressione ma soprattutto nella prevenzione, quindi discorso aperto con i più giovani. Sicuramente, noi l'attività che poniamo in essere a livello comando provinciale e che si articola peraltro sul territorio con sei comandi di compagnia e 68 stazioni, e l'attività preventiva è sempre ai massimi livelli, peraltro anche come servizi di posti di controllo, posti di blocco, dall'inizio dell'anno fino ad oggi li abbiamo incrementati anche in funzione di una rimodulazione delle esigenze in base anche a delle criticità che si sono manifestate. Però devo dire che proprio prendendo come spazio temporale questo dall'inizio dell'anno fino ad oggi abbiamo avuto un calo dei delitti in genere che si tengono sicuramente sul livello di consistenza, ma rispetto al periodo precedente c'è stato circa il 13% di calo dei delitti, delitti per i quali interveniamo e procediamo, per i quali l'arma dei carabinieri tratta circa il 90% di questi delitti, quindi è un impegno sicuramente molto intenso. Un impegno intenso, gli ultimi episodi di cronaca c'è stata qualche rissa, c'è stata qualche aggressione, lei più volte ha ripetuto, i cittadini devono collaborare, ci devono aiutare anche loro. Sì, la sicurezza è un discorso che deve essere, poiché tutti devono concorrere alla tenuta della stessa sicurezza, spesso, come anticipava lei, ho detto che è fondamentale la collaborazione tra il cittadino e le forze dell'ordine in genere. In particolare, peraltro, con il dispositivo di spiegato sulla città e sugli altri comuni, cioè in 12 a 9 comuni della provincia, vi è un'ottima sinergia sia con i colleghi della polizia che della finanza. Quindi, cittadino che ha o nota qualche situazione che riguarda, non so, magari particolarità di furti o di furti in abitazione, che anch'essi sono in fase di calo, abbiamo circa il 20% di furti in abitazione in meno, giusto per dare un dato concreto, ecco, hanno l'obbligo, sentirsi in dovere di chiamarci, quindi di chiamarci in causa. Oltre ai furti, le preoccupazioni maggiori, le denunce ci sono state per quel che riguarda la droga e l'usura, considerata anche il particolare momento economico che stiamo vivendo? Sì, in particolare momento economico, in genere un po' una sorta di disagio sociale, di crisi e quindi c'è un'attenzione particolare a quello che, peraltro, è uno dei fenomeni che maggiormente allarmano i nostri figli, siamo allarmati proprio per i nostri figli e per i giovani che è quello del contrasto allo spaccio di sostanze superficienti e devo dire che in provincia abbiamo anche ottenuto risultati riguardevoli, abbiamo dall'inizio dell'anno ad oggi, sino ad oggi, arrestato circa una trentina di persone, denunciate 120 sempre all'autorità giudiziaria e circa 150 alla prefettura per detenzione di modiche sostanze superficienti. C'è anche il discorso che riguarda la criminalità organizzata, quindi non è solo attività ordinaria o attività quotidiana, ma c'è anche l'investigazione. Com'è la situazione qui ad Avellino, ma soprattutto in Irpinia, dal vostro che è poi un osservatorio privilegiato? Qui è inutile ripetere sempre le stesse situazioni che riguardano proprio l'esistenza di clan e che sebbene decapitati hanno degli addentellati che tuttora insistono sul territorio, nella zona della Valle di Lauro, nella zona confine col Beneventano. L'attenzione è sempre alta e massima e a parte le attività messe in campo dal contrasto a queste attività, alle estorsioni, all'usura, noi abbiamo delle attività avviate anche con la direzione distrettuale antimafia di Napoli che attestano che questa attenzione da parte delle forze dell'ordine e in particolare anche nostra è sempre alta. Diciamo è importante il rapporto tra carabinieri e cittadini, quindi forze dell'ordine e cittadini. Sono tante le telefonate che ogni giorno arrivano al 112, poi con le richieste più disparate insomma. Sì, noi abbiamo come cellula attiva sempre in funzione H24 il nostro 112.